ho quasi da limare qualche piccolo dettaglio adesso dovremmo esserci sì è così si aprono le gabbie partiti cavalli della prima corsa parte bene la favorita private gateway ma fanno partenza anche i greci ed in particolare quello che vedete inquadrato dovrebbe essere urban love riconoscibile dal visibilissimo paraocchi adesso anche un po' a tirare in questa fase prende posizione anche relentless warrior poi partecipa al parziale paristar che in quarta corsia ma da melodì la seconda linea è completata da cicini farabi jagged ed ancora dietro a questi troviamo vintage flag poi entrapped tra i cavalli c'è anche bliss of speed che debutta e a chiude il gruppo barlons jack e lee wayne hawk cavalli che sono già velocemente in dirittura d'arrivo in vantaggio c'è sempre il cavallo greco urban love la femmina in particolare relentless warrior che prova subito a mettere pressione fa la stessa identica cosa per corsie esterne paristar poi tra i cavalli private gateway ancora più all'esterno c'è jagged di dentro ci va entrapped andiamo a cercare anche star hunter che però alle spalle dei primi con i cavalli che sono a 200 al traguardo scende lungo la corda relentless warrior dal centro della pista si presenta barlons jack barlons jack il debuttante che colpisce a sorpresa assolutamente una vittoria dal circolone perché figlio di codi bear ha risolto la corsa con ampio stile a 8 contro 1 qualche titubanza per essere certi di quello che abbiamo visto è quello che abbiamo visto un cavallo che sa andare forte perché in pochi tempi di galoppo è arrivato sulla prima linea e questo cavallo potrebbe dire qualcosa di sì in futuro esordiva lo ricordiamo debuttante castrone da codi bear è possibile pure che qualche metro in più lo gradisca impressionante la sua vittoria andrea fele in sella per il cavallo allenato da caralambus caralambus in sella come detto andrea fele per i signori se papa da kiss e paola cosentini rivediamo il secondo posto perché eravamo totalmente assorti da questa esibizione subito impressionante avevamo detto potevano verificarsi sorprese così è stato il secondo posto dovrebbe essere andato a paristar però volevamo rivedere lo stretto per essere certi al terzo posto possibile relentrasse voglia che no al secondo posto è arrivato farabi in realtà che però dei due era quello che aveva i bracciali in realtà i bracciali avrebbe dovuto averli l'altro comunque sia facciamo un po d'ordine due al primo posto sei al secondo e poi tredici al terzo due sei tredici e il primo ordine d'arrivo a sorpresa di questo pomeriggio a capanelle è tutto grazie